Caraibi amici allora buon day one di ps4 pro a tutti innanzitutto a chi la prende o anche a chi solo è incuriosito comunque noi videogiocatori festeggiamo l'arrivo delle novità in generale anche quando non ci interessano subito meglio ancora perché così se ne possiamo chiacchierare prima durante dopo eccetera abbiamo collegato una ps4 pro al nostro televisore 4k che igne italia ha preso per apposta perché comunque se non provi i giochi in in 4k di ps4 pro per vedere quando è meglio il check board rendering quando è meglio l'upscaling da 1440p quando in quei pochi casi la risoluzione nativa eccetera se non lo fai che c'è insomma ok giusto anche vedere come funziona ps4 pro con i televisori 1080p faremo ovviamente anche quello e anche come funziona con playstation di arse ne sta occupando mattia proprio in in questo in questo momento e però insomma anche bello attaccare la console al televisore 4k abbiamo fatto le impostazioni è andato tutto abbastanza bene come forse vedrete in un pezzo di video montato successivamente anzi tutto benissimo volevo dire per sottolineare che altri lettori un po ci hanno scritto dicendo di problemi eccetera ne parliamo appunto più avanti adesso avevo cominciato a scaricare un po di di giochi non ho fatto il passaggio da ps4 standard a ps4 pro via rete o salvando prima tutto su un hard disk esterno eccetera perché è una procedura troppo lunga con la rete che abbiamo facciamo prima a scaricare le singole cose così almeno scarichiamo solo quelle che ci interessano per il momento l'interfaccia di ps4 pro è identica a quella di ps4 standard l'abbiamo detto un sacco di volte però certo che vederla sul televisore 4k sembra proprio renderizzata in 4k con i contorni dei caratteri che sposano perfettamente la risoluzione dello schermo insomma sono quelle piccole soddisfazioni che noi nerd appassionati comunque abbiamo nel notare questo questo genere di cose io adesso lancerei non so regia se lo vogliamo fare insieme o no magari io adesso lancio un rise of the tomb raider uno dei due giochi che abbiamo messo a installare barra scaricare per primi l'altro è ratchet and clank perché è quello è uno di quelli che ha più impostazioni da su cui giochi chiare per per vedere un po come funzionano le cose va bene quindi ci vediamo in un o in un pezzo di montato di questo stesso video dopo uno stacco oppure in un altro video non lo so tanto qua mettiamo insieme materiale poi la regia a cura ovviamente sempre di simone soletta provvederà a buttarvi in faccia queste queste considerazioni video in un modo o nell'altro caraibi